Tre oli essenziali contro gli insetti. Tre oli essenziali e miscele per prevenire e curare le punture di insetti. Gli insetti esistono in ogni stagione dell'anno, ma è proprio d'estate che la loro quantità e varietà aumenta vertiginosamente. Le temperature poi permettono ed esigono di scoprirsi di più e di esporre, pertanto, maggior superficie di pelle e eventuali aggressioni. Che gli insetti siano allontanati da particolari odori è ormai risaputo. Esistono quantità di spray, tavolette da scaldare, unguenti, bastoncini da scaldare e candele che fungono da repellenti per gli insetti, soprattutto zanzare, pappataci, vespe e mosche, ma non sempre il contenuto di questi metodi di prevenzione è innocuo per la salute di chinala. La famosa dicitura è rare locale prima di soggiornarvi dovrebbe dare un'idea delle sostanze che non solo allontanano gli insetti, ma avvelenano anche noi che respiriamo la stessa aria. Nonostante questo non si è comunque immuni da punture e anche in questo modo i rimedi chimici e industriali non sempre sono rispettosi della pelle già irritata su cui vengono profusamente spalmati. Gli oli essenziali invece sono estratti da piante e alberi, pertanto, quando sono biologici e spremuti a freddo e non sono addizionati da solventi chimici o sostanze di sintesi, sono del tutto naturali. Essi, se usati con semplici precauzioni, sono utili e innocui aiuti derivanti dalla natura. Sono potenti integratori e grazie ai loro principi attivi si prestano a molteplici utilizzi. Gli oli essenziali contro le punture di insetti, gli oli essenziali sono molto utili nella prevenzione delle punture di insetti e nella cura naturale nei casi di morsi e punture. Gli oli essenziali di base e più conosciuti per prevenire la puntura degli insetti, allontanandoli dagli ambienti, sono l'olio essenziale di geranio, l'olio essenziale di lemongrasso o l'olio essenziale di citronella. Possono essere usati in brucia essenze, diluendo due gocce in poca acqua, oppure mescolati alla cera dei lumini che tanto spesso nelle sere d'estate allietano le ore all'aperto. Anche la pianta di lavanda funge da antizzanzare e simili. L'antizzanzare con gli oli essenziali, tre oli essenziali come miscela sinergica per prevenire le punture di insetti. Gli oli essenziali si possono diluire in acqua ed essere usati tramite un vaporizzatore direttamente sulla pelle. In mezzo litro di acqua naturale si sciolgono i seguenti oli essenziali, maggiore di olio essenziale di lavanda, quattro gocce maggiore di olio essenziale di lemongrasso o citronella, quattro gocce maggiore di olio essenziale di menta piperita, quattro gocce. Dopo aver fatto una prova spruzzandone una piccola quantità sul polso, per testare eventuali reazioni, questa miscela spray si può utilizzare in ogni momento e senza limitazioni di quantità, gli ingredienti infatti sono del tutto naturali e di gradevole profumazione. Tre oli essenziali come rimedio alle punture di insetti, le lozioni post puntura servono per alleviare il prurito ma anche per evitare fastidiosi irritazioni e infezioni. La pelle punta dagli insetti è particolarmente sensibile e recettiva, è perciò molto importante e presta attenzione a quanto ci si spalmi sopra. Per punture sparse e poco numerose si può applicare direttamente l'olio essenziale di lavanda o di eucalipto sulla palle, si usa un batuffolo di cotone imbevuto di una sola goccia e si tampona la parte punta. Per zone più estese e irritazioni che si possono essere propagate a seguito della puntura dell'insetto si può preparare una miscela contenente i seguenti oli essenziali, maggiore di olio essenziale di lavanda, 5 gocce maggiore di olio essenziale di eucalipto, 5 gocce maggiore di olio essenziale di timo, 5 gocce, si sciolgono in 30 ml di olio di base leggero e non troppo grasso, l'olio di mandorle va bene come olio di base per ogni preparazione, e si spalma sulla zona irritata, lasciando agire per qualche minuto e rimuovendo poi con una velina o un panno asciutto l'eccesso di olio.